ok amici 30 dicembre squat profondo l'ultima volta ho lavorato con 200 kg 5 per 5 questa sera tento 2 10 vediamo cosa c'è fuori a 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 ok bella profonda e la prima è andata a 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 dai vediamo cosa succede seconda a 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 5x5 con 2x10 incredibile già ora a lui non voglio immaginare che succederà a 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 25 25 25 25 25 20 barra da 20 5 per 5 con 2 10 record assoluto non l'ho mai fatto in vita mia a 39 anni ragazzi l'ho fatto buona cena buona cena uh